Realizziamo insieme il primo racing team animalista d'Italia. L'invito di Giacomo Jack Lucchetti, noto pilota pesaresi di motociclismo, che da anni ha sposato la causa animalista in ogni sua declinazione di diffusione. Dagli eloquenti messaggi portati sulle carene della sua moto, ai materiali con cui ha fatto realizzare tutte i caschi da gara e soprattutto al furgone con cui per più di 50 volte ha fatto su e giù per l'Italia in missioni a sostegno dei canili, puntualmente raccontate da Rossini TV nel nostro format quale a zampa. Questa volta la moto di Giacomo Jack Lucchetti sgasa verso la sfida più ambiziosa, quella della creazione del primo racing team animalista d'Italia. Una sfida lanciata sabato dalla cornice di Villa Miralfiore nella location del Museo del Vetro Curvato concessa dalla sintonia col progetto mostrata dal patron della FIAM Vittorio Livi. Un crowdfunding presentato dalla direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi che scatterà ufficialmente mercoledì 18 gennaio. Partirà ufficialmente mercoledì 18 gennaio proprio in Piazza del Popolo a Pesaro con un flash mob con tutti i cagnolini sulla nostra moto su Carena Randaggia e finirà in pratica terminerà il 28 di febbraio. Questa campagna servirà poi per riuscire a raggiungere quel goal a livello economico per riuscire a costruire questa struttura come primo racing team animalista d'Italia. L'obiettivo economico è molto ambizioso perché dall'acquisto del furgone all'acquisto della struttura che sarà sempre presente durante le campagne di sensibilizzazione e le raccolte alimentari fino ad una nuova moto su cui posizionare tutte le campagne di sensibilizzazione in tutti i circuiti in cui andremo a correre. Quindi portare l'attenzione di tanti appassionati di moto verso una tematica animalista che oggi come oggi purtroppo segna ancora dei numeri disastrosi specialmente purtroppo al sud Italia. Sono state oltre 50 le missioni di soccorso che abbiamo svolto fino ad oggi e purtroppo ecco se le amministrazioni locali non si sveglieranno purtroppo questa tematica difficilmente andrà a spegnersi. È una sfida che Lucchetti ha lanciato in compagnia dell'inseparabile Juliet, la meticcia salvata anni fa dal pilota e ora in via di ripresa dopo un periodo di convalescenza ed è anche la sintesi dello spirito che guiderà la campagna di raccolta fondi illustrata da Lucchetti. Da martedì 17 gennaio sarà online il nostro nuovo sito dove ci saranno tutti i riferimenti per le varie donazioni. La campagna crowdfunding verrà effettuata sulla piattaforma Eppela. Sono molto contento di poterlo fare con Eppela che è una piattaforma di crowdfunding con delle recensioni estremamente positive quindi sono molto contento, siamo belli carichi.